A posto. Ti sembra normale? È finito il tempo. 60 minuti, sai com'è? Madonna, così tanto avevo fatto. Sì, sì, non te ne sei reso nel conto, hai giocato un sacco. Snake. Ah, vuoi postare sotto? Sì, ti vede comunque, però se ti muovi... Fai il giochettino... Giochettoso. Posso dire che sei davvero sfigato? Sì, io sto giocando, tra virgolette, meglio di te. Sono impavido, perché infatti vieni... Premiato per la tua impavidità del non guardare se hai una trappola davanti ai fututissimi occhi. Certo, certo, quindi premiato. Non ho proprio premiato. Pronto. Io ho esplorato il doppio delle tue stanze. Eccolo. Non entri? Sì, ma è sembra lì al momento. Poi comunque continuo a vedere questo. Oh, ce la farei problema. Se vuoi accendere l'accendino, ti faccio vedere meglio. Mi doveva vedere. Però non l'ha vista quella un po'... Un po'... Guardo solo davanti a me. Il bastardo. Cerca un po' il bastardo. Però a me non ho scoperto che se inizia... a guardare giù... Se io mi metto tipo 2 cm a destra non mi vede. Arrivederci, grazie. Sceglia sempre noi per perdere tempo. Eh, mamma! A finire che io trovo tutti i personabili prima di finire il gioco. A me una volta. Appunto. Sì, sì. Eh, ma vai a ricordarti dove stanno le videocamere. Ok, questa non è la... Eh. Sì, questa è una stronzata. La trappola per terra è quella che ti fa cadere più la videocamera. Cioè, che cazzo mi significa? No, come ha fatto a non vedermi? Aveva quasi finito di vedermi. Boh, meglio così. Quella di trappola non mi è ancora capitato di finirci. Perché la puoi scalcare. Però se ci finisci poi devi risalire. Tipo proprio una... Una buca nel terreno. Devi anche morirci una volta per un trofeo. I cazzo di fusi b si sommano. Sì, 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 sì. Era più un... Ma fa un culo, sembrava una videocamera. Era una luce. Presente nulla? Mi fa super ridere che comunque... Nonostante tutto, sono andata più avanti di te. Cos'è? Un bicchiere? Sì, ma è sfiga nel senso che... Un bicchiere? Essere prudente. E se ti può proprio far piacere, io ho trovato la catena. Due volte. Eh, capito. Che è per quello che non trovo niente. Io non capisco perché... Ci sarà di sopra, però non si attiva. Basta che salti. Ma torna, sembra una videocamera con il zero bianco lì. Secondo me a questo punto tutte le robe cicce sono di sopra. Siamo al deck 6, di sopra quanto? Ci sono altri due piani? È un po' di 8, eh? Sì, no, ma è sempre random. Oh, buono. Ne ho due. Tè. Mi piace un sacco come animazione. Ce la fai? Grazie. Qualcosa di ciccioso? Mmm. Interessante. Ho utilizzato un fusibile. E abbiamo ottenuto... Nastro adesivo? Nastro adesivo? Nastro adesivo? Nastro adesivo? Era proprio taccagno questo, eh? Ah no. Lo zaino. Di due slot. Grande, ora posso trovare il doppio delle cazzate rispetto a quelle che saranno per scappare. Io pensavo che sarei andato in un'altra area, non in un'altra porta chiusa. Non mi aiuta per niente. Io sto solo perdendomi. So solo che siamo al deck 6 perché l'ho detto poco fa. Può essere utile per una porta. Cioè, poi c'è sta musica, che è tipo un... Ah, adesso ti inizio a fare una musica inquietante, come se avessi il mostro vicino. Poi in realtà è dall'altra parte della nave a farsi i cazzi suoi. Perché può capitare che se tu non fai casino il mostro sta per tre quarti d'ora dall'altra parte della nave a cercarti. Beh, è un po' come ha fatto con me. Cioè, un cazzo. Però ti faccio vedere che se fai così... Non lo baghi. No, no, no. Ti sei nascosto sotto il letto disteso. Però lì, secondo me, ti vede a prescindere. Così. Però almeno non sono morto. Vai tu a capire, mo'. Ah, no, per forza la sta di qua. Palesemente dentro. Sì, sì, sono già stato di tutte le porte. Devo solo capire dove trovare un paio di scale che non abbiano 17 videocamere. Perché, cioè, io ne ho prima trovato i 17 di videocamere. No, scale. Su o giù? È sua, dobbiamo andare. Veniamo da giù. Eh, ma non penso di aver esplorato tutto. Madonna santa. Ma non ci avete proprio un cazzo da fare? Datemi del nostro adesivo. Ma le camere sono casuali, però. Sì, sì, sì. Sono casuali. Però ci sono sempre solo in questo lato della nave. Ah, non ci sono anche nell'altro lato, perché non le ho trovate così tante. Infatti. Nell'altro lato, quello che ha solo luci verdi. Non te lo so descrivere meglio, te lo assicuro. Non ci sono quasi. Madonna santa, era un tubo. Oh, non c'è un cazzo da fare. Perché non gli posso dare un pugno? Ah, mi sono allontanato, va bene? Culata. Così impari a rompermi il cazzo. Ho capito come fregarti, d'ora in poi ti vinco io. Come hai fatto? Sono passato sotto mentre mi guardava. Sì. Non ha fatto niente. Ha suonato. E io me ne sono fregato. E sono stato così veloce da impedire di... scoprirmi. Non come mi aveva quasi scoperto adesso nella porta aperta. Io non sto trovando... Ma è fatto apposta. Stava vedendo. Atraverso la porta. Qui c'è molto più veloce. In natura. Oh. Gli puoi fare la stronza. Ottimo. Speriamo bene, guarda. Io a parte il collezionabile non vedo un cazzo. Spero proprio che ci sia qualcosa di sensato. Allora, l'ultima volta io, quando ho fatto una roba del genere, non ho chiuso la porta. Perché ho detto, se non chiudo la porta non la apriranno per venire a vedere. E ha funzionato. Stavolta la chiudo. Vediamo se fanno una cosa del genere. Perché secondo me loro aprono le porte chiuse perché pensi che ci stai dietro tu. Pensano che ci stai dietro tu. Sei ufficialmente l'episodio 2 per quanto sta andando avanti, sai? Non ho capito. Che sei ufficialmente l'episodio 2. Perché qua vengono fuori due parti, tre magari. Ma se c'è stato anche questo? Eh sì. Ah. Scusa, magari pure esco, anche non registro. Vogliamo fare il stesso puntamento domani sera. Ma tanto va platinato per me, quindi. Ah beh, puoi accompagnare. Quindi c'è anche la bellissima clip in cui tu fai. Eh, vedi perché chi è più imprudente viene pagato. In faccia. Sì. C'è anche quando abbiamo urlato in contemporanea come due coglioni. O quando tu non capisca cosa sta succedendo spaventata più dall'audio che si era partito che dal mostro davanti alla tua faccia. Quindi. L'unico problema è che non c'era la webcam, che è la parte più divertente in realtà. Eh, vabbè. Eh, tu non vuoi farti vedere. In realtà ormai sì. Eh sì, basta che mi avvicini. Prima o poi dobbiamo fare qualcosa assieme. Mi ciaffo qualcosa in faccia. Sai, se la connessione funzionasse potremmo fare Sherlock. E Ale voleva unirsi a noi. Cioè voleva proprio fare in contemporanea, in parti, lui, sulla sua run di Sherlock e dirci Secondo te com'è andata? Secondo te com'è andata così? Tu e... Sì, guarda che abbiamo fatto così Skyrim, Star Wars. Se ne sarà andato, no? Abbiamo parlato di tutti i cazzi nostri. BAM! Mi faccia. Carca puttata! Però non mi ha visto, eh. Meno male. Cioè abbiamo fatto noi la musica. A lui. Lui si sarà scappato. Si sarà cagato in mano. Se ne sarà andato. Adesso vedi. Pua! Però io non l'ho sentito andare. Sancom. Ancora qua che fa i suoi co. Niente. Ah, la flare gun. Non ho la minima idea di cosa faccia. So che fa male i mostri. Non a tutti. Da capo però. Dici? Sì, sì, sì. Anche perché non so neanche se ho tutti i dati. Con tutti i scambi di Playstation. Tutti i problemi. Vuoi farlo direttamente in live? Sarebbe bello se funzionasse la connessione, appunto. A casa ci daremo degli appuntamenti, allora. Ora, adesso c'è The Ring, quindi ti inculi. E poi forse c'è Neo. No, ma se... Guarda, io ti dico sempre stessa cosa anche al mondo visione. Se la connessione funzionassi, io farei live di un gioco la mattina, live di un gioco il pomeriggio, live di un gioco la sera. E magari ogni tanto non mi vedete perché voglio anche farmi i cazzi miei. Anche perché tipo, se fosse, che fai una mattina, è The Ring, no? Se ne fai una mattina altro, o un pomeriggio altro per un paio d'ore... Ma sicuramente mentre gioco a The Ring uscirà il pass di DBD, quindi dovrò giocare pure a quello. Ti cazzi. Se ne sarà andato. Parlo di due ore ogni tanto, non penso che... Ma io faccio anche di... Mi ricordo di te. Faccio anche di quattro ore io. Non vuoi fare quattro ore di Sherlock? A parte che Sherlock diventa pesante, ma a parte quello... No. Aio d'ore, così tu puoi fare il ZRING e non c'è il cazzo. Ah, godo. Telecamera puttà. Che cosa se normalmente il microfono però mi ha preso una sola voce? Non lo so, dipende da quanto è potente. Fidati, per qualche motivo i microfoni cinesi sono così potenti che di solito prendono un gioco due volte. A me è una... E' perché forse è discorso del problema, non è tanto un microfono. E' Discord? Sì, perché a me a volte non mi pagna neanche la mia voce appiccicata. Cosa c'entra Discord? Eh, non c'è il microfono. Ti pare normale? Cosa? La telecamera davanti alla porta. De novo. Cioè... Ma io ho fatto tutta la run senza telecamere praticamente. Eh, sei tu scarso. Cazzo, la telecamera davanti a ogni porta. Ho guardato metà delle porte che ci sono in game e non ho ancora trovato... Io ho tre quarti di run. Non ho ancora trovato, non ho ancora trovato, non ho ancora trovato, non ho ancora trovato... Vedi, quando la volta che ti becca proprio ti punta, eh? Sì, sì. Però... C'ho spazio per un altro estintore. No. C'ho spazio manco per i mille goglioni. Madonna, i suoni gelatinosi. Ma io non sto trov... Cioè io non trovo niente. Cioè io posso anche fermarmi, attirarlo e stannarlo quattro volte, perché tanto non ho trovato niente. Uno. Due. Tre. Adesso devo scendere negli ultimi due piani. No, perché abbiamo... Abbiamo superato tutti i piani. Questo era l'ultimo? Eh, questo è l'ottavo. Quello col ponte. Mi ero scordato che c'era la telecamera. E allora dove cazzo è la roba? Nell'altro lato della nave. E come si raggiunge? È sempre un problema per me. Così. Teoricamente. No, cazzo. Di là! Ma non... Non si può. Di là. C'è tutto un altro lato di otto piani, in teoria, lì. O più o meno è così. Per questo ti ho detto che c'è l'altro lato, quello dove le telecamere non ci sono mai. Perché è quello. Senti. Ora non mi interessa perché non l'avevo vista. Perché è tutto un casino. Ne approfitto per riuscire ad andare all'altro lato della nave. E tanto adesso mi metto a camminare, ma è già perso. Cioè non è neanche partita la musica, per intenderci. Ecco qua. Un'altra telecamera mi ha visto, facendo partire un altro allarme. Devo trovare l'altro lato della nave che non trovo mai. Perché non è di qua, è dal lato opposto. Anche perché sembra parecchio chiusa, comunque, come mappa. Come la lazzarola c'è lì dall'altra parte. O ho esplorato già tutto e semplicemente non ho esplorato un cazzo. C'è sempre questa possibilità. Anche perché mi pare che questo lato sia lo stesso. Cioè, per esempio, stavolta non siamo passati dove io, dove c'era il suo... No, no, non è vero. Sono sempre nella stessa run. Sto dicendo cazzate. Siamo stati nel suo nido. Non l'ho esplorato come si deve. Ma ci siamo stati. Ecco. Questo è il lato quello buono. Quello che distingue i due parti di navi. Questi sono i container che abbiamo visto prima. Sto imparando la nave. Domani me la so già scordare. Eh, è complicato assai, eh. Vapore di merda. Qua sopra c'è l'elicottero. Che è uno? Via di fuga? No. Sottomarina. Vedete l'elicottero o il sottomarina? Questo mi fa intuire che in realtà io sto dicendo minchiate. Ci sono solo quegli otto piani. E che non è esplorato niente. Ah, se sopra c'è l'elicottero. Di qua. C'è la brezza marina. E visto che bello. Non sembra per niente il vuoto cosmico. Ecco, vedi? Gli altri otto piani. Che sono quattro. Non si capisce un cazzo. Non si capisce niente. Mi sono caccato e era la scala. Ok. Qui in teoria non ci sono videocamere. Guarda come giro l'angolo. No. Sono nella stanza dell'inizio. Sono nella stanza dell'inizio. Tu sei partito da questo lato della... Evidentemente. Come cazzo ho fatto ad arrivare all'altro? Quindi questo piano l'abbiamo già sporato in teoria. Buonanotte. Buonanotte. Sei morta? Due volte. Però ho fatto più di... Cioè io ho esplorato tutta la nave. Lei è quasi scappata. Io sto esplorando tutta la nave in una volta sola senza mai morire. E non sto trovando niente. E poi prima va. Eh sì ma perché se sei imprudente il gioco ti premia. Gli spona il mostro da... Vedi? Vedi questo cerchio di metallo? Non serve a niente. Quello è? Ah benzina. Sto stronto. Sto stronto. Cosa lascio? Ti ha registrato? Ti ha nascosto. Stiamo registrando. Ho registrato tutto. Tutti i... Ne sbagliato il tasto. Tiè. Ok due benzine. Che non si sommano. Grazie gioco. Potrei lasciare le benzine lì. Quello che ho iniziato oggi. Monstrum. Ah quello che mi dicevi. Madonna santa. Sto vapore di merda. Questa nave va aggiustata. È una nave non insommergibile. No. Però non insommergibile così da com'è. Oh non di qua. Vapore. Ma to che pa... Ma ogni singolo tubo è? Ti è scappato una mappa di merda. Di spawn? Sì. Eh no. Non ho ancora trovato niente. Ma a parte che non ho trovato niente. È solo più di telecamere e di gas. Io gas una volta l'ho beccato. Adesso io qui. In quest'area. Cosa posso trovare? Brava. E siamo al nido del mostro. Quindi non capisco dove cazzo... No sopra no. Non andare più giù. La musica non mi aiuta. No no no. Non ti perdi. Sì. Ma è... Infatti... È tutto in un bel. Tu non hai capito. Siamo nel lato... Ma è una... Questa è un lancerazzi. Sì. Siamo nel lato buono della nave. L'altro lato ha tipo 8 piani. Tutto uguali. E' constanza che cambiano... For... E' non è colpa mia se sto trovando solo... Ah, resta fermo. Resta fermo. Tiè. Non è servito a... Non è servito a niente. Niente di... Niente. Non sono riuscito a sparare nel fintore. Confermato che il lancerazzi non serve a un cazzo. O l'ho missato o non serve a un cazzo. Però già potevi bellissimo scappare invece di provare a fermarlo in qualunque modo. Tanto non avevo niente. Ne ho capito. Però la supervivenza è importante. Concludiamo qui? Sì. Ok. Beh, tanto domani mi ritrovate probabilmente in live. Se funziona. Sempre qui a tentare la fuga. Alla prossima. Saluta. Ciao, ciao.